Farà tappa anche a Caltanissetta Metti in moto il Dono 2022, la manifestazione nazionale che il 9 ottobre coinvolgerà le città di Caltanissetta, Grigento e Gela, permettere ai partecipanti di ammirare le bellezze monumentali, artistiche e paesaggistiche a bordo delle proprie moto e vespe lungo il percorso prescelto e allo stesso tempo sarà un momento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. Metti in moto il Dono rientra tra le iniziative promosse dalla FIASA nazionale che già si è svolta in altre regioni d'Italia e che il 9 ottobre trova uno spazio nella nostra federata insieme a quelle di Gela e di Grigento. E' un'iniziativa alla quale possono partecipare gratuitamente tutti coloro che possiedono una moto, una vespe, insomma. Il raduno si svolgerà alle ore 9 qui dinanzi alla nostra associazione di via della regione 64. I motociclisti faranno un piccolo raduno qua davanti e poi percorreranno le vie principali della nostra città per poi dirigersi nella sede di Agrigento dove si incontreranno insomma con le federate di Agrigento e di Gela e tutto ciò appunto serve a promuovere la donazione del sangue. L'attività della FIASA nissena procede con diverse iniziative per invitare la cittadinanza a donare. Siamo riusciti in questi mesi insomma ad aumentare il nostro numero di donazioni e di nuovi donatori ma ovviamente facendo una valutazione a livello territoriale è chiaro che questa città potrebbe produrre potenzialmente tanti donatori per cui l'appello che facciamo è quello che chiunque rientri in un'età compresa tra i 18 e i 65 anni dia il proprio contributo. insomma